buongiorno ragazze benvenute sul mio canale io sono titti e oggi sono qui per parlarvi dei miei prodotti per la skin care del periodo quindi del periodo primaverile vi farò vedere prodotti per il viso prodotti per il corpo qualcuno lo conoscete già altri ve li mostro per la prima volta ve ne parlo per la prima volta prima di tutto però ragazze voglio ringraziare tutti voi che mi seguite voglio ringraziare le nuove iscritte benvenute è un ringraziamento di cuore a tutte quante quindi iniziamo iniziamo con i prodotti vi faccio vedere prima di tutto quest'acqua micellare della garnier che sto utilizzando è un'acqua micellare per peli sensibili strucca detergia idrata c'è scritto senza risciacquo invece io risciacquo sempre perché ci sono all'interno delle acque micellare sempre dei tensio attivi e strucca viso occhi e labbra senza profumo in effetti un prodotto ahimè senza profumo però va bene proprio per essere altamente tollerabile come c'è scritto sono 400 ml di prodotto maxi formato costa sulle 3 euro e qualcosa io l'ho acquistata d'attività la trovo buona ragazze e o strucca perfettamente la utilizzo anche soprattutto la mattina per rimuovere i residui di sì di sebo magari di sudore che durante la notte si sono accumulati sulla pelle e mi trovo benissimo quindi ve la consiglio so che la garnier ha fatto anche altre acque micellari saranno 45 quindi sicuramente prossimamente utilizzerò qualcun'altra e ve ne parlerò per adesso preso questa per peli sensibili perché ahimè la mia pelle è sensibile vi ho già parlato del tonico il tonico all'estratto di miele di manuka di sienne da lidl e questo ha anche provitamina b5 400 ml di prodotto e costa sempre sulle 3 euro 3 euro e 50 se non ricordo male questo profumazione è gradevole tonifica idrata il miele di manuka sapete anche proprietà lenitive per cui io questo lo userò e lo consiglio anche nel periodo estivo quando si va a mare quindi si ha bisogno anche diciamo di un effetto lenitivo che non guasta ottimo prodotto ottima profumazione sicuramente da ricomprare un prodotto che sto utilizzando soprattutto la mattina e questa di sienne e una mousse sensitive 3 in 1 questo è le mandorle questa mousse prodotto vegano 150 ml di prodotto prezzo sempre il solito questo faceva parte appunto della linea nature alle mandorle è un ottimo prodotto questo lascia una sensazione piacevole sulla pelle idratante io mi trovo benissimo lo utilizzo la mattina devo dire che non ho tanto riscontrato l'azione struccante motivo per cui appunto non la utilizzo la sera ma preferisco utilizzarla di mattina un prodotto in mousse ragazze ottima linea questa della quale non vi ho parlato fino ad ora di questa linea c'erano altre referenze io ho acquistato anche la crema per il contorno occhi che vi farò vedere dopo e ho acquistato anche l'olio per il corpo quello però l'ho acquistato per mia madre sapete che io non amo molto i prodotti in olio sul corpo quindi ma non ne ha neanche esigenza e quindi l'ho comprato per lei lei si sta trovando benissimo alle gambe molto secche per cui fino all'anno scorso faceva degli impacchi di creme idratanti e nutrienti adesso con quest'olio mi ha detto che lo sta utilizzando a giorni alterni si trova davvero bene ha risolto il problema delle gambe ragazze questa è anche un'ottima linea di sien sapete che io amo tante linee di sien mi ci trovo benissimo la new entry è questa acqua micellare 100 ml che ho acquistato la settimana scorsa prodotto vegano sien nature sono 100 ml e l'ho pagata 1 euro e 99 profumazione gradevole strucca benissimo questo è un prodotto che sto utilizzando e che continuerò a utilizzare la sera per struccarmi per struccarmi utilizzo anche un'acqua un latte detergente che non manca mai in casa e questo della venna è a base di acqua termale strucca bene piacevolmente profumato sono 200 ml di prodotto ragazze questa è la venna la potete trovare in farmacia e parafarmacia adesso io non ricordo quando l'ho pagata sapete che io compro in offerta tante volte compro anche da farmacia online per cui sicuramente se andate sulle farmacia online la trovate sulle 11 12 euro è un buon latte io lo utilizzo non solo per struccarmi ma anche quando la pelle risente proprio di un effetto lenitivo idratante e rinfrescante allora per gli occhi sto utilizzando questo della l'oreal struccante occhi waterproof lido dove non arriva a struccare l'acqua micellare e latte detergente utilizzo questo che un bifassico vedete si agita e si applica sul dischetto di cotone trovo che sia un prodotto piacevole soprattutto non irrita gli occhi ragazze io sapete oltre la pelle sensibile anche gli occhi sensibili quindi devo fare particolarmente attenzione ai prodotti struccanti per gli occhi anche ai contorno occhi io questa ve la consiglio lo pagalo loro l'ho comprata questa lidl l'ha messa in offerta qualche settimana fa forse un mesetto fa devo dire mi ci sto trovando benissimo sono sono quando saranno 250 125 ml di prodotto e costo e sulle due euro e qualcosa quello che io ho pagato in offerta per quanto riguarda le creme idratanti sto utilizzando questa crema idratante per il viso prima però di parlare delle creme idratanti vi parlo di questo che è un gommage per il viso che io utilizzo giorni alterni più volte comunque la settimana sempre della ven 50 ml questo lo consiglio a chi ha pelli particolarmente sensibili che quindi non può fare scrub aggressivi questo è molto delicato ragazze microgranuli delicatessimi che quindi viene applicata in modo circolare con massaggi circolari sulla pelle poi viene rimosso e lascia la pelle piacevolmente pulita rimuove le cellule morte ed è un prodotto che utilizzo tutto l'anno anche in estate anche quando vado a mare chiaramente l'utilizzo perché appunto andando a rimuovere le cellule morte va poi a favorire una bronzatura più luminosa e più uniforme questa è la crema idratante sempre di aven qui c'è il prezzo 16 90 anziché 21 e 50 sono 50 ml di prodotto è una crema molto leggera idratante rinfrescante che io utilizzo a volte anche dopo quando come dopo sole se non ho dopo sole ragazze vedete si assorbe molto bene ecco qua lascia la pelle veramente gradevolmente profumata gradevolmente idratata soprattutto va a lenire questo prodotto ottimo allora la mattina crema idratante la vado a alternare a questa della siena che vi ho fatto vedere in un altro video è una crema della linea aloe vera con aloe delle isole canarie rossa selvatica e bava di lumaca sapete che la bava di lumaca ha proprietà particolarmente idratanti però contiene anche degli acidi che sono l'acido glicolico e l'acido lettinoico ragazzi quindi ha notevoli proprietà questa crema anche spf 15 quindi adatta a questo periodo piacevolmente profumata rinfrescante idratante la sto trovando veramente valida questa è stata una novità della linea alla l'oe di sien parlo sempre dell'intel vado ad alternare a quelle due creme non abito ragazzi io non uso una crema tanto tempo ne utilizzo diverse ho sempre abituato la mia pelle a più tipologie di creme di texture anche di attivi penso che sia una cosa buona da fare perché quando la pelle poi si abitua ad una sola sostanza insomma può creare problemi con altre sostanze secondo me questo è il mio parere personale che deriva anche dall'esperienza prima infatti avevo quell'abitudine di utilizzare una crema per tanto tempo mi trovavo bene però poi ho visto che a un bel punto l'effetto veniva a mancare un po come qualunque altra cosa si vada ad utilizzare sempre secondo me e questo è mio opinione personale una mia opinione personale vado ad alternare appunto a quelle due creme come dicevo prima queste goccine di collistar sono goccine autoabbronzanti io anche quando vado a mare non sto ore con il viso al sole non mi piace mi dà fastidio non lo sopporto e a parte il fatto che chiaramente fa malissimo la pelle quindi vado ad utilizzare nel periodo primaverile ed estivo queste goccine delle quali vi ho parlato anche nel video degli autoabbronzanti sono 30 ml si presentano in questo modo vedete non ungono assolutamente ragazze questo è un prodotto in olio che non unge assolutamente altrimenti io sarei la prima a non utilizzarlo si assorbono sono le vitamina e lasciano la pelle piacevolmente idratata piacevolmente colorita dopo qualche ora compare un po di abbronzatura quindi queste le consiglio a chi vuole un effetto autoabbronzante si assorbono subito chiaramente essendo di collistar ragazze costano un pochino di più partono dai 22 euro in su però ne bastano poche goccine non vengono utilizzate ogni giorno quindi vi dureranno mesi e mesi ve lo posso garantire allora questi sono i prodotti che utilizzo durante il giorno passiamo al contorno occhi piano piano li devo spostare perché sennò dimentico allora questo lo conoscete il mio contorno occhi preferito alla miele di sien l'ho ricomprato lo ricomprerò con vitamina e è un prodotto che si assorbe mi fa da base trucco non mi crea assolutamente irritazioni ve l'ho fatto vedere nell'altro video quindi non mi dilungo il prezzo è sempre lo stesso a me svolge anche un effetto diciamo l'effetto di sgonfiare le palpebre quando magari tendo a dormire di più e mi alzo con le palpebre un po' gonfie quindi quello lo utilizzo soprattutto la sera un altro è questo della linea di cui vi ho parlato prima sempre quella le mandorle nature sensitive ecco temevo un po ad utilizzare questa crema perché ho sentito che qualcuno ha avuto delle irritazioni devo dire che io la sto utilizzando non mi sta creando assolutamente irritazioni agli occhi ragazzi né altro tipo di irritazioni mi trovo benissimo anche questa questa la utilizzo più che altro la mattina le alterno oppure faccio un giorno uno un giorno l'altra però quella preferisco la sera perché vi ho detto che ha questo effetto sgonfiante per le palpebre è una cosa che c'è scritta la quale io chiaramente non avevo creduto però un leggero effetto a me lo svolge ottimo prodotto ragazze il prezzo sempre sulle 3 euro 3 euro e 50 ve lo consiglio allora sotto sopra allora sopra la mattina la mattina sulle palpebre ecco acquistato questa è la marca è una delle marche di cui vi voglio parlare per la prima volta acquistato questo lifting per le palpebre siero lifting per le palpebre effetto antità e lifting istantaneo per le palpebre per tutti i tipi di pelle allora questo prodotto ragazze che dovrebbe andare a liftare le palpebre quindi un attimo a sollevarle diciamo che io non ho ancora il problema delle palpebre rilassate però che cos'è successo io ero su facebook ad un certo punto mi è passato un post davanti dove c'era questa azienda la skin labo che io non conoscevo che proponeva un prodotto questo in omaggio meglio di cui avrei dovuto pagare le spese di spedizioni oppure acquistando altri prodotti mi sarebbe arrivato gratis anche questo senza spese di spedizione non conoscendo l'azienda sono andata un attimo sul loro sito ad informarmi per vedere di che cosa si trattava si tratta di un'azienda italiana torinese che devo dire ha un bel po i prodotti interessanti prodotti per il viso per il corpo booster insomma si eri un po di tutto io ero interessata a questa crema più che altro per andare a prevenire perché ci sono problemi ragazzi in estetismi tipo questo tipo le rughe o tipo la cellulite che una volta che si è si sono creati non li andiamo più ad eliminare quindi conviene giocare l'anticipo è andarli a combattere prima vedete un prodotto in gel ne basta e adesso ne ho messo tanto però vi posso assicurare che ne basta davvero poco per assorbirsi io adesso non so perché ripeto non ho questo problema sto facendo un'azione di prevenzione non so se funziona sulle palpebre rilassate già però possiamo provare a prevenire il problema io questo questo costa 9 euro a me lo hanno mandato in omaggio perché io ho acquistato poi altri prodotti che vi farò vedere tra un po io lo trovo un prodotto gradevole anche questo non mi ha dato assolutamente irritazioni agli occhi vi consiglio ragazze di andare a dare un'occhiata a questa azienda se acquistate per la prima volta io ho trovato il posto su facebook adesso non so come come si fa se non si trova il posto su facebook però loro hanno dei prodotti a prezzi vantaggiosi perché vendono soltanto attraverso il sito quindi questi prodotti non li trovate in altri negozi non ci sono rappresentanti non li trovate in profumeria li trovate soltanto sul loro sito se vi interessa andate a dare un'occhiata vi farò vedere tra un poco anche le altre cose che ho acquistato allora per gli occhi abbiamo finito per il momento passiamo al siero passiamo ai sieri il primo siero che sto utilizzando soprattutto la mattina e questo di sien cellular beauty ho sentito ecco per pelli radiose e belle con miramaze allora miramaze ha grandi proprietà idratanti è una pianta è l'estratto di una pianta che ha grandi proprietà idratanti questo insiero di cui ho sentito meraviglie i prezzi ragazzi non li ripeto non mi voglio ripetere sono quelli ecco qua vedete un siero che ho comprato veramente perché ero curiosissima di provare devo dire che non mi ha deluso è un siero che va a dare una piacevole sensazione alla pelle idrata lascia la pelle veramente luminosa devo dire mi trovo bene con questo siero avrei voluto prendere anche il contorno occhi non l'ho trovato perché allora questa linea cellular beauty è andata nella mia filiale in linea fissa però c'è solo questo quindi il siero la crema giorno e la crema notte non ci sono altre referenze adesso io non so se questo succede solo qui nella mia città oppure succede dappertutto fatemi sapere se trovate il contorno occhi perché io vorrei utilizzarlo vorrei acquistarlo altrimenti non so io non credo che poi sarà proposto dopo può essere di sì non ve lo so dire comunque vedremo allora un altro siero che sto utilizzando questo della face complex siero al collagene questo lo sto utilizzando la sera sono 100 ml ipoallergenico senza parabeni e conservanti allora il collagene ragazze un siero al collagene sempre utile perché sapete che col passare del tempo la nostra pelle di fibroblasti non producono più collagene ed elastina quindi diciamo che la nostra pelle va col passare del tempo a perdere elasticità elasticità e compattezza questo è un'altra azienda che ho conosciuto recentemente come l'ho conosciuta ero al centro commerciale davanti alla profumeria mi sono trovata davanti ad uno stand ricco di prodotti ragazze indescrivibile c'era di tutto c'era latte detergenti c'erano creme c'erano sieri c'erano oli essenziali c'era c'era veramente maschere c'era di tutto quindi non conoscendo questa questa azienda ho deciso di comprare qualche prodotto adesso sto utilizzando questo vi faccio vedere questo vedete sembra un prodotto viscoso in realtà è molto liquido si assorbe facilmente devo dire che mi sto trovando abbastanza bene lo utilizzo la sera questo si ero ragazze perché la mattina utilizzo l'altro devo dire mi sono quando acquistato questi prodotti ho prima acquistato i prodotti poi sono andata a casa sono andata un po sul loro sito a vedere che sito fosse un sito giovane nato nel 2017 si ero è un sito oddio è un'azienda sempre italiana di napoli e devo dire che anche questa azienda ha tantissimi tantissimi prodotti sul sito molti di più di quelli che io ho visto in profumeria ci sono anche delle linee all'aloe ho visto anche del make up allora il prezzo di questo è 4 euro e 99 il prezzo di tutti i prodotti di questa azienda erano 4 euro era 4 euro e 99 per quanto riguarda il prodotto delle palpebre non mi ricordo se ve l'ho detto quel prodotto si costa 9 euro a me l'hanno mandato in omaggio perché ne ho acquistati altri ve l'ho detto ragazze se siete interessate date un'occhiata anche a questo face complex a questa a questa azienda perché devo dire ha prodotti interessanti l'inci di questo siero è abbastanza buono come abbastanza buono l'inci dei diversi prodotti che ho acquistato della skillabo devo dire loro hanno anche inci molto brevi molto essenziali vi consiglio di andare a dare un'occhiata allora abbiamo finito il siero quindi altri prodotti per la notte ecco altri due prodotti skillabo che ho acquistato sono un gel attivo al collagene è un altro che è un extra lifting una crema gel attiva extra lifting con acido ialuronico agire l'ox e olio di argan questo anche un effetto nutriente queste due ragazze le alterno con il siero la notte sono prodotti che si assorbono facilmente hanno buon inci un inci abbastanza buono vi faccio vedere sono uguali ve ne faccio vedere una così ecco qui non sono assolutamente ragazze creme corpose creme che non si assorbono assolutamente no sulla mia pelle si assorbono subito non mi stanno creando problemi ecco perché vi dico andate a dare un'occhiata a a questi siti e questi li utilizzo la notte prodotti labbra prodotti labbra te li faccio vedere tutti questo che sicuramente conoscerete esiste anche la versione rosa balsamo di sien idratante profumato ottimo questo è un prodotto che io utilizzo tutto l'anno estremamente economico perché costerà un euro poco più sicuramente poco più di un euro adesso non ricordo ragazze io questo lo acquisto sempre in automatico e questa questa è un'altra crema ecco è l'ultima referenza della skillabo che ho acquistato e il super puffy lips allora questa promette volume quindi promette di rimpolpare le labbra di idratarle di nutrirle con hot flux e olio di mandorle questo hot flux ragazze è un agente riscaldante è uno degli agenti meno irritanti è uno degli agenti che in linea di massima si utilizza nelle creme per le labbra anche nelle creme anticellulite perché perché svolge un effetto di vasodilatazione questa crema ne basta davvero pochissima ragazze se l'acquistate ecco è una crema che si assorbe molto facilmente ne dovete applicare poca perché perché se disgraviatamente vi va sulle mucose nelle labbra vi crea naturalmente un effetto di bruciore di pizzicore che può essere fastidioso devo dire che io questi prodotti per le labbra li compro ne compro diversi anche di questi perché perché cerco più che altro idratazione e nutrimento in quanto faccio un uso un abuso di tinte labbra le tinte labbra vanno a disidratare le labbra le vanno a seccare allora ho deciso di prendere sicuramente ha un effetto leggermente rimpolpante chiaramente non fa il miracolo ragazze se io non ho problemi di riportare le labbra labbra abbastanza regolari però devo dire fa un bel effetto sulle labbra applicatene poco questo costa 11 euro sono 15 ml non vi ho detto il prezzo delle altre me ne sono dimenticata allora queste creme vanno sulle una 9 euro forse questa e l'altra 13 comunque ecco questi sono i prezzi ragazze queste però sono da 30 ml sono da 30 ml chiaramente hanno anche quelle da 50 che costano un pochino di più hanno veramente un grande assortimento di prodotti allora prodotti per i piedi utilizzo sempre questo tutto l'anno ve l'ho fatta vedere un altro video si è neurea 10 per cento soprattutto per i talloni secchi l'orea anche proprietà esfolianti a determinate percentuali la compro da si e mi sa che costa sulle due euro e qualcosa una rimanenza una scorta e questa sempre di sien quella compro da lidl e questa è base di burro di karité eurea non so adesso se questa fa parte della linea tropical summer o se di una linea che è stata proposta dopo questo non me lo ricordo so che questo è una scorta ne ho acquistate più di uno e una mousse ragazze per i piedi quindi si agita si applica un effetto idratante piacevole profumo e anche con questo io mi sto trovando benissimo se la ripropone lidl sicuramente la ricomprerò creme mani ve le ho fatte vedere le ultime new entry sono queste che sto utilizzando questa della cn rose argan sono 30 ml di prodotto si profumo alla rosa crema nutriente da portare appresso perché un formato piccolo e si assorbe facilmente lascia le mani veramente nutrite e idratate anche questa della skin food is la linea skin food is allora questa costerà sulle 2 euro a qualcosa era una linea un po più costosa questa questa invece 99 centesimi sono 50 ml di prodotto anche questa ragazze è buona io ho scelto la crema mani antietà con 95 per cento di ingredienti naturali prodotto vegano vi faccio vedere sono simili si assorbono con molta facilità a me danno un po fastidio quelle creme che non tanto si assorbono ecco tendo a metterle in casi di estrema necessità di particolare secchezza delle mani la sera prima di andare a letto queste vi posso assicurare le potete utilizzare tranquillamente di giorno questo io c'è un altro l'ho messo in borsetta quindi all'occorrenza visto che utilizziamo gel saponi lavaggi di mani frequenti all'occorrenza la vado ad utilizzare parliamo dello scrub per il corpo scrub per il corpo sicuramente lo ricorderete famosissimo lui eccolo eccolo 600 grammi di prodotti talasso scrub scrub e sfogliante di siena ai al sale marino questo ragazze è un prodotto particolarmente buono è un prodotto che io non vedo più purtroppo nella mia filiale lidl vi faccio vedere per chi non lo conoscesse non so se sarà riproposto vedete un prodotto veramente buono diciamo che mi unge un po nel momento in cui lo vado ad applicare però poi è un prodotto che viene risciacquato e lascia la pelle particolarmente morbida particolarmente nutrita è un prodotto del quale tutte quante noi ci siamo innamorate purtroppo io non lo vedo più non lo vedo più ragazze non so se solo nella mia filiale se è stato eliminato è un cioè se lo trovate prendetelo perché è una bella confezione è un prezzo anche conveniente vi faccio vedere l'altro che utilizzo soprattutto in estate che compro sempre queste body scrub ai lamponi è un gommage della organic shop allora questi prodotti degli organi shop io li compro da notino e una profumeria online che ha tutta la linea è una linea fresca profumata colorata non potete immaginare il profumo di questo scrub ragazze di lamponi lamponi e zucchero veramente buono io adesso diciamo che l'ho utilizzato solo una volta però quando inizia l'estate sostituisco questo a quello e quello lo conservo un po per il periodo autunnale questo è il prodotto vedete anche sul notino se ci andate troverete tante tanti prodotti sfiziosi di questa linea tutti profumatissimi tutti ottimi prodotti per il corpo diciamo a livello di idratazione e nutrimento sto utilizzando al momento questi questa è sempre di sien sono questa è alla mandorla e per le mani lozione per le mani e per il corpo io la utilizzo soprattutto per il corpo si assorbe bene un piacevole profumo di mandorla quest'anno acquistato anche quella larga perché ce ne sono due tipologie e mi trovo bene benissimo anche con con quella però voglio finire questa prima di iniziarla l'ho provata una volta devo dire anche quella profumo gradevole però vado a finire questa se no veramente va a finire che poi va male ecco questa l'ho ricomprata e questa sono 300 ml di prodotto all'aloe vera e vedete ci sono proprio dei pezzettini rinfrescanti di aloe dentro mi trovo benissimo anche con questa devo dire meno rinfrescante del gel della stessa linea che io utilizzo come dopo sole però ottimo prodotto rinfrescante sono 300 ml il prezzo mi sa che si aggira sempre sulle sulle 3 euro e questo è il secondo che ricompro penso di continuare a comprarlo perché veramente mi piace di queste creme la profumazione leggermente gradevole leggermente che si diciamo si percepisce leggermente perché l'aloe non è un prodotto più di tanto profumato però soprattutto mi rinfresca tanto penso di aver finito con tutti i prodotti del periodo sicuramente vi farò un video anche per l'estate ragazze io spero che questo video vi sia stato utile fatemi sapere se avete utilizzato qualcuno di questi prodotti o se conoscete le aziende delle quali vi ho parlato sapete io non lavoro per le aziende ragazze non pubblicizzo aziende queste sono aziende che ho conosciuto diciamo così un po improvvisamente e delle quali ho acquistato qualche cosa e ve ne ho voluto parlare proprio perché si tratta di prodotti non costosi quindi vi ringrazio tutte io spero di trovarvi come al solito se vi fa piacere al mio prossimo video vi saluto vi auguro una buona giornata e vi do un bacio ciao